Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi ci accogliamo Vlad e Niki 2 Ecco qui Adesso ci fa raccogliere 9 monete Ci dà il nuovo livello Da non perdere E vediamo Esploriamo i nuovi livelli da fare Abbiamo 2200 monete Il nuovo qual era? Quello che ci dà nella pubblicità Quello dell'elefante Tipo lo zoo Quindi possiamo fare il dentista Il carro Penso di carnevale No questo no Quindi dentista O carro di carnevale Direi che è meglio carnevale Così siamo in tema Oggi Partiremo a una parata Parteciperemo E ora Distribuire gli altri spettatori Vlad Tocca subito il punzente segreto Ma Abbiamo bloccato la piatta Ed ecco qui Ha bloccato la piattaforma Ma perché c'aveva una lancia in mano? Con 12 lucchetti E quindi adesso sono tutti da sbloccare Niki aveva una lancia in mano Ok Non si sa perché Il pagliaccio I palloncini I palloncini I palloncini Ah Abbiamo colpito con la lancia Una chiave tutta colorata Nel quadrato viola Devi trovare la combinazione giusta Devi centrare Forse quello fuori Devi muovere Si muove? Verde Verde E ci ha dato anche una chiave viola Poi continuiamo Una mela Una sequenza numerica Ma manca l'uno Ti ha dato già la chiave? Hai perso i barattoli? Fa 2, 4, 3, 4, 6 Ok Continuiamo Si apre questa mela? Oh un verme Il bruco Veramente Ah qua Il puzzle Ok un puzzle E la pera è completata Finita Apri Apri la porta Una chiave La chiave Che mantieneva il bruco Un gatto Una stella Una stella Ci ha dato E della porticina? Dobbiamo mettere l'ingranaggio Ah Gli mancava una rotella Ma diciamo che è abbastanza semplice questo livello finora Una Una cintura 8 Per fare andare gli ingranaggi E' piccolissima E' piccolissimo Uno Altro Uno Ne devi colpire quattro volte E ci ha dato la chiave Dalla pancia del bimbo gigante Poi Qui c'è di nuovo Christian Il fratellino Una stella Sulla coda Ah Due stelle Il dragone Ma il dragone farà qualcosa Uno 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 Due Due Tre Ah Dobbiamo alzarlo? Non saprei Forse devi mettere qualche aggeggio Che abbiamo preso da sopra? Due Sembra quattro di nuovo Quattro sei Prova La sequenza dei barattoli Eh sì Era la sequenza Era la sequenza dei barattoli I barattoli dell'altro caro Iniziamo a mettere le chiavi Uno Due Viola Sì Multicolore Blu Verde acqua Lì sopra 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 Verde scuro Di nuovo giallo E abbiamo finito E le stelle Dove vanno? Ah sul razzo Sul razzo spaziale C'è un'altra stella E il razzo Non c'è da affatto fare niente Non si apre Tocca sopra la punta Tocca la punta No Tocca l'oblo Lo Il vetro No Dobbiamo mettere le stelle Qua sotto Le stelle M'hanno inserite sotto al paiaccio Quindi ce ne sono Altre Altre due Altre due stelle Dove possiamo trovarle Non si sa Qui non ce ne sono Sulla testa Sulla testa Tocca quel bambino E l'altro No Stella C'è la ruota Sulla ruota c'era una stella Sono piccolissime Nel sacchetto Nel sacchetto Della spazzatura Questa C'è già questa Leghiamo le lampe No No Dobbiamo farlo No Ormai lui manteneva La La bimba Questa Aveva una carta di credito In mano Un pass Qualcosa del genere Che Vediamo se va nel razzo Certo Apri L'elastico Per far andare il razzo Ed ecco la chiave Prendi la chiave E vuole C'è qualcos'altro No Hai un'altra stella La metti Vabbè La chiave Chiave arancione E Dobbiamo Secondo me c'entra in qualcosa Sì L'ultima stella Come facevamo noi Abbiamo cliccato a caso Sotto il cappello del pagliaccio Stava la stella Mettiamo l'ultima stellina E Ci ha dato un'altra chiave Però secondo me Ci manca una chiave rosa Abbiamo Sei Quattro Due Otto Visto? E adesso ci manca Quel lucchetto rosa Secondo me ha a che fare qualcosa Con la bambina? Ancora il fiocchetto? Il verme Dai delle mazzate In testa Dobbiamo cucchiarlo Ti ho detto Cosa c'è? E quindi Abbiamo risolto Tutto l'enigma Abbassiamo il pulsante Wow Si apre E c'è la mamma Sempre la mamma Attenzione che la mamma Vi scopre La piattaforma sta salendo Sei la donna più bella del mondo Mamma Evviva E per questo livello Ci hanno dato Un bonus Di 100 monete Quindi Se vi va Scrivetevi al canale Lasciate un like Attivate la campanellina Condividete i nostri video Con i vostri amici E Ciao E mi raccomando Se vi va E se vi va Abbonatevi al nostro canale Ciao Ciao